Pressoché invariate, oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi, valori prossimi alle medie. Alle 17 il termometro segnava 33 gradi a Firenze, 31 a Pisa, 27 a Grossetro e 33 gradi ad Arezzo. Queste le temperature di questo pomeriggio alle 17 piuttosto elevate. Con le previsioni del tempo abbiamo concluso, vi ricordiamo l'appuntamento di domani alle 14. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.